Calcio di punizione, a favore solo fallo su Teddy Mata, sul pallone è il numero 10 Michele Daniello, forse Michele la mammarella! Calcio d'ancolo... E' proprio sulla linea si è trovato! Arbitro, occhio dietro! Arbitro, occhio! Occhio! Vieni, fa entrare a piedi, aspetta! Niente, ancora 1-1 il risultato parziale in questo secondo tempo, qua della vittoria di Via Nazionale. Virtus Castelfrentano 1, Ripa 2007 1 Perchè tu non mangi? Sei molto sano, mangi il tofu a casa! Grazie! 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 Grazie!